Tutto quello che ti serve per il viaggio? Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio, non è tuo? Oh sì, è vero! E gli occhiali blu, non sono tuoi? Sì, sono i miei occhiali. Sono così smemorata. Voglio leggere il libro di Umberto Eco durante il viaggio. E non dimenticarti le chiavi. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. Hai tutto quello che ti serve per il viaggio? Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio, non è tuo? Oh sì, è vero! E gli occhiali blu, non sono tuoi? Sì, sono i miei occhiali. Sono così smemorata. Voglio leggere il libro di Umberto Eco durante il viaggio. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. E non dimentichi tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino.